Ciao a tutti, oggi vedremo nel dettaglio la membrana cellulare e in particolare le sue caratteristiche generali, le funzioni, la struttura e composizione. Ogni cellula eucariota è definita da una struttura chiusa, la membrana, che regola ogni sua relazione con l'esterno. Le membrane sono delle strutture fondamentali per l'attività della cellula. Pur essendo estremamente sottili, sono strutture altamente organizzate che regolano gli scambi di materia e permettono alle cellule di interagire tra di loro e con l'ambiente. Nelle cellule eucariotiche le membrane sono delle strutture dinamiche, si rinnovano continuamente, si formano e si frammentano, passano da un organolo all'altro e si fondono tra di loro. Le membrane condividono tutte la stessa struttura, anche se esistono delle importanti differenze tra di loro, perfino tra quelle di una stessa cellula. Ai fini pratici, distinguiamo la membrana plasmatica, che delimita la cellula, e le membrane che rivestono gli organoli o formano le vescicole. Andiamo nello specifico a vedere le funzioni della membrana. Di tutte le membrane possedute da una cellula, la membrana plasmatica è di gran lunga la più importante. Per prima cosa circonda la cellula senza interruzione, formando quindi una barriera che impedisce il disperdersi del citoplasma. Come seconda cosa, la membrana fa da confine, cioè tutto ciò che si trova al di fuori della membrana, è esterno alla cellula. Inoltre, essendo semipermeabile, regola il passaggio delle sostanze in entrata e in uscita. Recepisce poi degli stimoli dall'esterno, dall'organismo o dalle cellule vicine. Infine, identifica la cellula come appartenente ad un dato tessuto, ad un organo o un organismo. Andiamo a vedere la struttura delle membrane. Tutte le membrane sono principalmente costituite da lipidi, proteine e carboidrati. I fosfolipidi sono organizzati a formare un doppio strato in cui le proteine e i carboidrati galleggiano, spostandosi in continuazione. Questa struttura è stata definita modello a mosaico fluido. I fosfolipidi sono sintetizzati nel reticolo endoplasmatico liscio, mentre le proteine sono prodotte dal reticolo endoplasmatico ruvido. Il RER assembla fosfolipidi e proteine e li invia all'apparato di Golgi sotto forma di vescicole. Qui vengono aggiunti dei carboidrati, e delle altre molecole, come per esempio il colesterolo. Infine, dall'apparato di Golgi, le membrane prodotte, sempre sotto forma di vescicole, raggiungono la loro destinazione finale. I principali costituenti delle membrane sono i fosfolipidi. La spontanea capacità di queste molecole di potersi aggregare in un doppio strato contribuisce a far sì che le membrane siano in grado di fondersi tra di loro. Le membrane appartenenti a delle cellule o organuli diversi possono avere dei fosfolipidi che differiscono per la diversa lunghezza degli acidi grassi oppure per il grado di insaturazione. Tuttavia, oltre ai fosfolipidi, si trova anche il colesterolo, che può costituire fino al 15% dei lipidi totali. Il colesterolo è importante perché contribuisce a dare una maggiore resistenza e stabilità al doppio strato. Se però la quantità di colesterolo diventa eccessiva, la membrana risulta meno flessibile e quindi più rigida. Langmuir fu il primo a proporre il primo modello di membrana plasmatica, detta a monostrato. Egli studiò il comportamento dei fosfolipidi quando questi erano purificati e disciolti in un solvente organico. Utilizzò come solvente organico il benzene. Pose la miscela di fosfolipidi del benzene sull'acqua e quando il benzene evaporava si formava un monostrato di fosfolipidi in maniera che la testa polare restasse immersa nell'acqua, mentre la porzione apolare si esponeva all'aria. Il secondo modello fu proposto da Gorter e Grendel nel 1925. Scoprirono che i lipidi nella membrana sono organizzati in un doppio strato. I due usarono i globuli rossi, che non hanno delle membrane interne, ma hanno soltanto quella plasmatica. Estrassero i lipidi di un preciso numero di questi globuli rossi, disponendoli in un singolo strato. Osservarono che la superficie occupata da questo strato era il doppio di quello che ci si aspettava. Questo significava che la membrana plasmatica era formata da un doppio strato di lipidi. Questo fu il secondo modello detto doppio strato. I lipidi confluiscono una fluidità alle membrane. La fluidità consente alle molecole di muoversi velocemente, così in pochissimo tempo una molecola può spostarsi da un'estremità all'altra. La fluidità dipende dalla qualità dei lipidi. Infatti, acidi grassi corti, acidi grassi insaturi e bassi livelli di colesterolo aumentano appunto la fluidità della membrana. Anche la temperatura è importante, infatti a delle basse temperature la fluidità della membrana diminuisce, mentre ad alte temperature aumenta. Quando fa freddo, alcuni organismi, come le piante, modificano la composizione lipidica delle loro membrane. La sopravvivenza invernale delle piante e l'ibernazione degli animali implicano appunto cambiamenti di questo tipo. Andiamo a parlare adesso delle proteine all'interno delle membrane. Il numero e il tipo di proteine presenti nelle membrane dipendono dalla sua funzione. Proteine e fosfolipidi sono indipendenti tra di loro e interagiscono solo tra rispettive regioni polari o apolari. Molte proteine sono abbastanza libere di muoversi, altre invece possono muoversi soltanto entro un'area limitata. Spesso le proteine sono distribuite in modo asimmetrico sui due lati della membrana. Le proteine di membrana sono distinte in due tipi, proteine integrali e proteine periferiche. Le proteine integrali sono immerse nel doppio strato lipidico e presentano sia regioni idrofobiche che regioni idrofile. Le porzioni idrofobiche ad elica attraversano il doppio strato da parte a parte, mentre le estremità idrofile sporgono ad uno dei due lati della membrana. Le proteine integrali che sporgono sia all'esterno che all'interno della membrana sono dette proteine transmembrana. Le proteine periferiche sono invece prive di regioni idrofobiche e quindi non sono immerse nel doppio strato. Presentano quindi soltanto delle porzioni polari che interagiscono con le estremità polari dei fosfolipidi. Esse possono quindi trovarsi soltanto su un lato della membrana, mai su entrambi. Questo conferisce alle due superfici della membrana delle proprietà diverse. Oltre ai lipidi e alle proteine, le membrane contengono anche dei carboidrati. Essi sono localizzati sulla superficie esterna della membrana e servono da segnali di riconoscimento. I carboidrati possono formare dei legami covalenti sia con i lipidi che con le proteine, formando rispettivamente glicolipidi e glicoproteine. Il modello successivo fu quello proposto da Singer e Nicholson, secondo il quale la membrana presenta delle caratteristiche di discontinuità, fluidità e asimmetria. La discontinuità si ha perché le proteine integrali interrompono la struttura lipidica. La membrana si comporta come un fluido perché i lipidi possono diffondersi lateralmente all'interno del proprio strato, per movimento termico. Come accennato in precedenza, il grado di fluidità è influenzato dalla qualità dei lipidi. In generale i fosfolipidi possono dare diversi movimenti. Possono ruotare su se stessi, spin, possono spostarsi lateralmente, per diffusione laterale. Inoltre le loro code possono avere delle flessioni e spostarsi da uno strato all'altro, movimento flip-flop. Per quanto riguarda l'assimmetria, essa è dovuta alla distribuzione asimmetrica di alcuni lipidi e dalla localizzazione dei glucidi legati sia a proteine che a lipidi sulla faccia extracellulare. L'assimmetria dei fosfolipidi nella membrana plasmatica è dimostrata da diversi esperimenti, dei quali approfondiremo in seguito. Ma come si crea l'assimmetria delle proteine? Le proteine sono sintetizzate dai ribosomi posti sul reticolo endoplasmatico e poi sono traslocate all'interno di questo. Dal reticolo endoplasmatico la proteina viene inserita in una vescicola che transita fino alla superficie della cellula dove si inserisce e si fonde con la parte che dava verso l'interno del reticolo endoplasmatico, verso quindi la faccia extracellulare della membrana. In questo modo la cellula può cambiare la composizione della sua membrana e può anche diventare sensibile a determinati ormoni. Molte delle proteine di membrana sono chiamate glicoproteine, cioè catene oligosaccariniche che si legano a proteine come la serina o la asparagina. È possibile che queste siano così abbondanti da formare uno spesso rivestimento esterno di carboidrati, chiamato glicocalice. Secondo Singer e Nicholson i lipidi e le proteine non hanno una localizzazione ben precisa, ma dal 1988 è stato affermato che ci sono delle regioni particolarmente ricche di spingolipidi, che sono una classe di lipidi, e di colesterolo, che si impacchettano strettamente e creano dei domini ordinati. Questi domini sono detti zattere lipidiche e inoltre hanno la peculiarità di concentrare delle proteine coinvolte nella comunicazione cellulare. Quindi non tutte le membrane plasmatiche sono uguali, perché appunto esistono queste regioni. Tramite le proteine della membrana si hanno delle funzioni molto importanti, che sono il riconoscimento e l'adesione. Tramite il riconoscimento una cellula è in grado di identificarne altre dello stesso tipo, mentre tramite l'adesione le cellule stabiliscono legami saldi tra di loro. All'interno del prossimo video vedremo nel dettaglio i meccanismi di trasporto attraverso la membrana e in particolare ci soffermeremo su tutte le classi di proteine di trasporto. Parleremo poi di endocitosi, esocitosi e molto altro. Per non perderti queste informazioni iscriviti e attiva la campanella delle notifiche. Per il momento è tutto, grazie per l'attenzione e a presto!